Secondo l'Unicef sono almeno un milione e mezzo i minori fuggiti dall'Ucraina e molti sono soli. L'assessore alle politiche sociali Guilhelmina Cucci specifica le linee guida per ottenere l'affido in famiglia. L'affido è uno strumento straordinario e si rivela ancora di più in situazioni di emergenza come questa. In effetti abbiamo una rete di famiglie che conosciamo, che sono state selezionate, che sono pronte ad accogliere i minori stranieri che non sono accompagnati. Abbiamo già preso in carico la prima bambina che è arrivata sul nostro territorio fuggendo dalla guerra. L'abbiamo collocata presso una delle famiglie che già conosciamo. Per i minori che fuggono da questi territori che sono in guerra, il percorso di accoglienza e ospitalità presso le famiglie del nostro territorio deve essere trasparente, deve essere soprattutto sicuro e va seguito secondo le vie istituzionali. Ricordo che i minori che arrivano non accompagnati devono essere registrati e censiti e va subito verificata la relazione con gli eventuali accompagnatori. Per quelli che arrivano soli bisogna assolutamente attivare e informare immediatamente il Tribunale dei minorenni per una rapida nomina del tutore volontario e poi per la presa in carico presso il Comune. Le famiglie disposte ad accogliere possono contattare i numeri del servizio sociale 0434 392611 392618 392630.